buonasera a tutti ragazzi e amici di zingarello ragazzi siamo in una nuova farm perché ho intenzione di fare una nuova serie e questo è il mio canale allora mi spiego subito ragazzi dunque noi stavamo facendo ricordate io parlo sempre di farm simulator perché comunque stiamo portando avanti tre serie farm simulator sto portando avanti pur farm e sto portando avanti farm to general quello con mia moglie niente oggi siamo su farm simulator però non siamo sulla fattoria che stavo seguendo ultimamente ragazzi ho mollato quella fattoria per il semplice motivo che intanto siamo arrivati al tredicesimo episodio mi sembrava un po la di cambiare poi sinceramente ragazzi ultimamente mi stava dando un po problemi nel senso che mi sparivano le cose e insomma ho detto vabbè forse è arrivato il momento che dobbiamo fare una mappa nuova allora ragazzi mi trovo nel centro giardinaggio della mappa la mercurifarmi di alien gene grandissimo modder a parer mio ragazzi per il mio alle alien gemmi un grandissimo modder perché non so se vi ricordate ha fatto la spettacolo island la mappa con 5 isolotti che io ho giocato tantissimo e poi ragazzi ciliegina sulla torta la sus ex farmi che è uno spettacolo di mappa veramente quella del 17 è uno spettacolo di mappa poi ha fatto questa che si chiama la mercurifarmi ragazzi io ci ho giocato tre giorni prima che apprezzano il 19 perché questa mappa qua se qualcuno se lo ricorda l'avevano già buttata fuori nel 17 gli ultimi giorni che stavamo aspettando l'apertura del farm 19 io avevo fatto anche un video su questa mappa avevamo fatto una specie di gara per salutare il farm 2017 qualcuno l'avrà visto ce l'ho sempre sul canale per qualcuno che lo vuol vedere e ho detto sì dai iniziamo a fare una nuova serie con una nuova mamma ragazzi questa serie che andrò a fare questa che oggi è il primo video che sto facendo sarà intitolata nella vecchia fattoria con zingarello il canto via ragazzi io penso mi è venuto questa questa idea qua questo titolo qua e ho detto sì dai la intitoliamo così una nuova serie avrà una copertina abbiamo già preparato una copertina la collaborazione con la moglie c'è sempre la grafica ragazzi lo sapete se ne occupa lei e niente dai andiamo avanti io sono qua nel centro giardinaggio perché comunque ragazzi come di solito nelle mappe di alien g c'è un sacco di roba da fare la mappa è provvista di tutto abbiamo guardate qua abbiamo un sacco di robe qua penso che si possa aprire ecco vedete ragazzi penso che qua si scarica la paglia qui abbiamo il coso della lana qui abbiamo un'altra porta penso si apre vediamo un po no questa no questa non si apre qui abbiamo del cipatto non so se ce lo fa vendere l'abbiamo le serra ragazzi abbiamo un sacco di roba veramente un sacco di roba però è chiaro che non posso farvi vedere tutto adesso perché insomma ragazzi il primo episodio avremo tempo per girarci la mappa qualcuno magari la sta già giocando però è chiaro che poi fa mano mano che faremo i video andremo anche a girare la mappa e vedere cosa tutto abbiamo a disposizione o meglio ancora cosa tutto ci ha messo a disposizione il nostro caro alien g tra l'altro io seguo anche su facebook ragazzi se qualcuno a voi andate a vedere anche su facebook perché pubblica anche lì e parla tantissimo con gli utenti ragazzi ve lo garantisco allora io direi di andare via da qua andiamo a vedere un po un attimino la mia fattoria ragazzi quella che ho preparato tutto oggi non ho fatto grandi cose ho fatto un po diciamo le cose principali che si fanno per far sì che una fattoria incomincia a partire ok ragazzi prendiamo la macchinina il nostro pick up come al solito ragazzi è chiaro che sono partito con mezzi molto indietro ve lo sapete che io parto sempre così poi mano mano che si va avanti magari facciamo soldini incominciamo a cambiare qualche mezzo però per il momento ho preso tutta roba d'epoca come sempre come faccio con tutte le mappe poi pian pianino si va avanti allora ragazzi io direi di indirizzarci verso la mappa la fattoria scusatemi apro un po l'immagine per farvi vedere eccoci qua questa è la mercolifarm ragazzi è una mappa molto bella a me piace tantissimo c'è terreni medio grandi e anche molto piccoli una via di mezzo non ha i terreni molto grandi ragazzi mi piace molto anche per quello infatti ho scelto di farla con dei mezzi ma donna ragazzi mi sono dimenticato avete ragione scusate qua siamo in inghilterra mi sono completamente dimenticato ragazzi ci sta da buon italiano ci sta mi sono dimenticato che devo stare sulla sinistra ok ragazzi allora siamo arrivati all'entrata della farm e vedrete ho fatto qualche lavoretto mi sono preparato all'interno ragazzi ho fatto la strada il cancello ho fatto il via di alberato ho fatto una sorta di entrata con questi muri qua li ho messi io adesso ci apriamo il nostro cancello eccoci qua e ci inoltriamo dentro la farm ragazzi da qui inizia l'avventura nella vecchia fattoria con zingarello e il buon tobia ragazzi tobia lo sapete è il mio cane me lo porto in tutte le mappe ce l'abbiamo anche qua intanto questo è il diario alberato questi alberi qua li ho messi io ragazzi questi sono i campi che andremo a fare e niente qui mi sono un attimino organizzato così adesso vi faccio vedere un attimino ragazzi tanto mettiamo a posto questa ecco io dire che va bene ok ragazzi tobia l'ho messo qua ciao toby ecco qua il nostro toby ragazzi che non manchi toby li diamo da mangiare come sempre ecco qua tieni toby vai a mangiare ecco da qui parte la serie nuova ragazzi nella vecchia fattoria con zingarello e il canto via eccoci qua ragazzi saremo i protagonisti di questa nuova serie vediamo che la cosa vi piaccia ragazzi poi è chiaro che io parto da solo poi se qualcuno ci volesse unire a questa serie qua benvenga basta che me lo faccia sapere si fa un video insieme lo dico sempre ragazzi chi vuol fare un video insieme mi contatti me lo dica io non ho problemi sono 20 massimo 25 minuti che facciamo ragazzi ci divertiamo facciamo quattro battute un po di scenetti via come sempre ok allora andiamo avanti vi presento un attimino quello che ho fatto dunque allora io mi sono comprato il fiat questo in onore del gran fabio che sicuramente me l'avrebbe chiesto ho detto vabbè parto direttamente col fiat anche perché questa fattoria ce lo mette a disposizione io ho fatto un po di cambiamento ragazzi perché ci mette a disposizione il fiat ci mette a disposizione il valta ci mette a disposizione un case abbastanza grosso ragazzi allora io ho venduto tutto ho comprato tutto ho rifatto tutto dall'inizio come piace a me poi mi sono preso il nuola la versione 8.340 modello d'epoca anche questo come vedete qua dentro ho comprato già le seminatrici ho preso quelle col bozzetto sia per i cereali che quando andremo a mettere mai se tutto il resto vedete qua con i rispettivi bozzetti ho comprato questo tipo qua poi è chiaro ragazzi tutto adesso per iniziare poi insomma pian pianino si fanno quattro soldi andremo a a rinforzarci sia a livello di mezzi e di attrezzatura sia anche penso a migliorare sulla su cosa dei mezzi magari un po più potenti vediamo un attimino come messa la mappa ragazzi perché inutile che comprare un mezzo che ne sono un trattore da 3 400 cavalli poi poi devo fare due metri di campo insomma ragazzi non ne vale la pena andiamo avanti con il nostro giro allora qui abbiamo le nostre cappanette con i semi fertilizzanti penso che ci sia anche la calce se non ricordo male ci dovrebbe essere anche la calce qui abbiamo l'erbicida eccola qua ragazzi c'è anche la calce vedete questi sono i sacchi di calce i semi l'erbicida e qui abbiamo i fertilizzanti sia liquido che solito e poi niente mi devo sistemare mi devo mettere l'officina il pulivapo ragazzi piano piano perché comunque c'è già 100 mila euro di debito non vi dico balle ragazzi ve lo faccio vedere tanto ne approfittiamo un attimino per salvare allora dunque eccoci qua ragazzi come vederci prestito 105 mila euro ragazzi non vi dico balle sono partito con 105 mila euro di debito è chiaro che per fare un po di lavoretti un po di soldi dovuti chiedere però insomma pian pianino poi quando cominceremo a partire ecco qua ragazzi qua ho messo ho comprato questa metitore via qua classica io parto più o meno sempre con questa la nostra metitebbia sono quelle che si usavano con uno bepi lino la nostra lama col carrellino questo il carrellino della case però ragazzi io l'ho adattato comunque alla fine sempre lì il carrellino e quella della lama della case però io ci ho messo questa penso che non sia affatto male anzi vedo che vada abbastanza bene questa è la lama per tagliare il nostro mais che useremo all'inizio penso anche per i girasoli poi pian pianino andremo a attrezzarci anche con le lame qui abbiamo la nostra metitebbia come vi ho fatto vedere poc'anzi questa ormai la conoscete piccolina però vabbè per iniziare va benissimo ragazzi e poi qua mi sono munito io lavoro così a me piace lavorare con questo fertilizzante qua mi sono messo il deposito del concime del fertilizzante diciamo concime solido lo vogliamo chiamare concime solido nonché tra parentesi la cacchina degli animali ecco qua questo è il nostro carrello una degli ultimi modo che ci hanno dato ragazzi che l'ho già riempito molto bellino molto bellino adatto per lo stile che sto facendo io pian pianino dai pian pianino mi sto organizzando considerate allora ragazzi considerate che tutto questo l'ho fatto oggi questo pomeriggio mi sono messo l'ho odiata un attimino l'ho presa così al volo e ho detto dai cominciamo così pian pianino e ancora tutto come vedete grezzo il piazzale da fare ho fatto proprio le cosine principali per farmi la possibilità di incominciare a partire ok ragazzi poi niente poi è chiaro che c'è da vedere tutto il resto io posso fare un piccolo giretto se volete andiamo a prendere la macchina facciamo un piccolo giretto mi faccio vedere un po la mappa ok allora se non mi ricordo male se andiamo su di qua ci dovrebbe essere la zona degli animali i pollagli adesso andiamo a vedere un attimino comunque questo ragazzi questo piccolino che vedete qua che penso che sia orzo o frumento vediamo un po no questo è frumento questo è un campo mio ragazzi questo è il frumento che andremo a fare appena è possibile andremo a fare poi dovrei avere i due campi che destra e sinistra del giallo alberato dove siamo entrati per venire qua in farm ragazzi adesso andiamo a vedere un po la zona degli animali comunque è una mappa abbastanza caruccia a me non dispiace per niente sì poi è chiaro ragazzi è piena di campi piccolini ci sono le recinzioni cioè i paletti ecco un'altra cosa ragazzi volevo dire un'altra cosa allora voi vedete questo recinto qua questo qua con i paletti ragazzi ebbene questo si può tagliare con la motosega fate sparire i cepi come se fosse un albero e questo recinto qua sparisce dappertutto volendo se voi vedete laggiù in fondo che ci sono i paletti tra un campo e l'altro quello volendo se uno di noi dice vabbè io vorrei fare un campo un po grande tira via questa recinzione i paletti tira via i cepi come si fa quando tagliamo gli alberi e unisce i campi ragazzi qualora ci sia questo recinto qua lo possiamo togliere dappertutto non è un problema ragazzi armatevi di motosega pazienza l'attrezzatura che serve per togliere il ceppo per far sparire il ceppo detto così e vi toglie tutto il recinto senza nessun problema poi non so se si possono togliere queste questo non lo so però io mi ricordo nella sus ex farmi che ho giocato anche quella l'ho giocata tantissimo nel diciassette c'era la possibilità di togliere la collisione nel senso che le siete rimanevano però ci si poteva passare in mezzo con i mezzi cosa che adesso non si può fare ragazzi infatti se io prendo la macchina guardate vado sopra vedete la macchina si ferma invece nella sus ex farmi c'era stato detto il motivo il modo in cui si poteva fare tramite i personaggini perché si andava a parlare con i personaggini adesso non mi ricordo se era uno del negozio una che stava ai cavalli comunque poi si andava a schiacciare un pulsante e si disattivava la collisione con le siepe ragazzi le siepe rimanevano però la collisione si toglieva poi io non ho mai provato con l'affare che ci aveva dato black ship quella specie di di aratro giallo che si attaccava trattori non è proprio un aratro però serviva sia per la terra che per tagliare i ceppi per far sparire gli alberi con quello forse si riusciva a togliere anche la siepe però vabbè poi lo vedremo in un secondo momento andiamo avanti a farci il nostro giro ecco abbiamo tante cose in questa mappa e ragazzi non è una mappetta così abbiamo tante cose da scoprire campi ce ne sono quanti ne volete vi potete organizzare sbizzarrire alla meglio ragazzi proprio veramente guardate voi campi che ci avete molti secondo me si possono unire come questi due che vedete qua è questo con quello laggiù quei tre laggiù che vedete in fondo secondo me volendo uno li può unire però ragazzi poi dipende uno da come la gioca io non sono più uno che unisce all'inizio si quando giocavano i 15 un pochino nel 17 un salato avanti unire dopo dopo basta ragazzi dopo veramente mi è passata la voglia mi preferisco fare i campi come ce li danno allora giriamo sulla nostra sinistra e qua dovremmo avere la zona animale ragazzi se non mi ricordo male vediamo un attimino i tre pollagli eccoci qua ragazzi vedete qui abbiamo tre pollagli ragazzi poi è chiaro che tutta questa roba la potete togliere se voi non volete più questa roba andate negozio vedete ragazzi entrate negozio entrate negli oggetti posseduti scorretti con le freccette del nostro joystick questo va beh sono gli attrezzature che ho comprato io e queste sono tutte le casette che abbiamo in fattoria ragazzi i tre pollagli che vi sto facendo vedere adesso va bella cosa detto via tutte le casette che abbiamo in giro per la mappa volete le potete togliere la corsia del insilato e così via ragazzi tutte le robe che volendo potete togliere e metterle a vostro piacimento vedete potete togliere tutto potete togliere addirittura la casetta che c'è all'entrata tutto quello che volete io giustamente non ho tolto niente ragazzi perché prima voglio vedere come la mappa tutto quanto è niente qui ci abbiamo comunque tre pollagli penso che qui ci sia ancora un garage ecco qua ragazzi queste sono delle casettine per le uova insomma è tutto quello che fa parte per un pollaio è chiaro che poi vedete qua c'è un po di attrezzatura sono i cosi dove bevono i nostri polli nostre galline tutto quanto questa è un'altra casettina qua vicino al pollaio io sono l'idea ragazzi che alien g lavora veramente alla grande per me è un signor modder alien g black sheep sono tutti modder scusatemi la frase con i contro mi permetto di dirlo perché la verità sono veramente bravi poi va bene tornando al discorso del pollaglio ragazzi poi dipende da voi se non volete lasciare uno lo volete lasciare tre di dovete vedere chi gioca la mappa come meglio gestirla qui abbiamo dunque la zona dei mulini penso è sentito il rumore ragazzi come girano le valle del mulino questo penso che sia un punto vendita adesso io non vorrei sbagliare però dovrebbe essere un punto vendita ragazzi dopo di che dopo di che devo aprire un attimo la mappa ragazzi perché non mi ricordo dove stanno gli animali vediamo un po a forse devo scendere di qua si vado dritto di qua allora andiamo un attimino di qua si forse sto andando giusto non lo so ragazzi io la mappa non me la ricordo tanto vi dico la verità c'è da girarla un attimino sì 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 stiamo andando verso gli animali devo girarla un attimino perché ragazzi ci ha giocato veramente ve lo dico col cuore proprio ci ha giocato un giorno forse 21 abbiamo fatto il video per il saluto al 17 e uno per fare un giro tra la mappa dopodiché io questa mappa qua perché secondo me hanno fatto un errore madornale cioè tu stai buttando fuori il farm 19 e nel frattempo due giorni prima di buttare fuori il palmi 19 minuti fuori questa mappa ragazzi è un controsenso però vabbè lasciamo stare perché poi insomma non vorrei comunque niente nel frattempo siamo arrivati nella zona animali come vedete ragazzi la corsia come vedete abbiamo le stalle con tutte le porte scorrevoli tutto si può aprire guardate qua ragazzi che spettacolo penso che anche questa cioè va bene ragazzi abbiamo tutto tutto con le porte separate per quello vi dico ragazzi le mappe di di black sheep di alien gene sono delle mappe fatte veramente alla grande vedete tutte le porte che si aprono potete entrare nelle stalle e vabbè qua i vari cosi per il concime liquido quello solido e qui penso che avremmo una sorta di anche qui abbiamo un siloso ragazzi guardate qua anche qua un altro siloso uno ce l'abbiamo già in fattoria che qua abbiamo anche un altro siloso guardate poter riempire quando riprendete qui penso che vabbè ci siano le varie capanne anche queste provviste di luci si guardate ragazzi abbiamo un interruttore qua ecco qua ragazzi illuminato tutto il capanno cioè veramente ragazzi io non ho parole è veramente sono delle cose fatte bene questo penso che sia quella delle mucche illuminato anche questo ragazzi guardate qua ecco qua ragazzi se uno vuol giocare di notte venire qua la notte magari ci voglio che ne so rifornire gli animali metterli un po posto si accende le luci e lavora tranquillamente anche la notte anche qua tutto munito di porta ragazzi guardate qua guardate che spettacolo guardate qua ragazzi bidoncini del latte veramente uno spettacolo questa mappa qua lasciatemi dire veramente bella io non mi stupisco di guardarla perché ragazzi ve l'ho detto ci ho giocato pochissimo la sto riscoprendo oggi perché oggi è la prima volta che io la apro perché ve lo ricordate stavo facendo l'altra niente per quello vi dico vediamo passo per passo come portarla avanti io adesso non mi azzardo a togliere niente la lascia tutto così com'è perché voglio vedere passo per passo come portarla avanti allora apro la mappa ragazzi un attimino per vedere tutto quanto perché non mi ricordo bene boh proviamo a scendere di qua ragazzi adesso vi porto nei campi dove avevo fatto il video per salutare allora ragazzi guarda facciamo presto questi sono dei campi vedete qua dove sono questi alberi ci sono delle varie culture anche questa è una cosa veramente bella ragazzi quasi se volete fare delle prove qualcosa e io avevo preso questi campi qua ragazzi quando vi parlo del 17 avevo preso questi campi qua e mi ero ideato una sorta di gara con i miei amici col mio gruppo dei fulminati che qualcuno conosce conoscere penso che ormai li conoscete anche voi avevamo messo dei salti delle balle di paglia dovevamo cercare di raccogliere le balle di paglia ogni corsia ragazzi ogni corsia di questa c'era uno di noi con un con un trattore che doveva raccogliere le balle metterle in un carrello poi laggiù in fondo avevamo fatto il podio avevamo messo dei salti insomma c'eravamo andiate una cosa un attimino per divertirci e salutare il nostro farmi 2016 17 ecco tanto ragazzi si sentono le motoseghe non so che che sta tagliando legna però si sente la motosega ci sta dai ragazzi come vedete la mappa io vi apro un attimino poi qua noi avevamo fatto un campo ragazzi non mi ricordo se è qua o forse forse qua l'avevamo fatto non mi ricordo mi ricordo che col gruppo dei fulminati avevamo fatto una sorta di campo forse qua comunque vedete ragazzi guardate qua qua abbiamo la possibilità di fare un campo vedete c'è disegnato un campo noi dovremmo solo ararlo e metterci quello che vogliamo eccoci qua campi come dove vi girate vi girate vedete campi ragazzi penso che non sia un problema in questa mappa qui abbiamo una sorta di piazzale ognuno qua si può fare quello che vuole e adesso vi porto a vedere una cosa che ci tengo molto ragazzi veramente tanto e questo è stato più argomento di discussioni specialmente nelle mappe del gioco stesso nelle mappe ideate della giant ecco ragazzi io dico cosa ci voleva fare una cosa così per vendere latte ci voleva tantissimo piuttosto che mandarmi a vendere latte nella griglia dove si vendono i cereali ci voleva tanto mettere due cisterni così ma anche un silo sui bidoncini ragazzi guardate i bidoncini del latte le casse con le bottiglie di latte ragazzi cosa ci vuole fare una cosa così perché mandarmi a vendere i latte nella griglia dei cereali non ha senso ragazzi parliamoci chiaro non ha senso chi capisce un attimino di farmi tu mi mandi con la cisterna a vendere i latte nella griglia dei cereali è un pugno nell'occhio ragazzi dai molte volte basta uno niente guardate qua le cisterne del latte guardate qua ragazzi con tutte le serie delle valvole le cassettine i bidoncini basta niente basta veramente niente va bene ok andiamo avanti ragazzi io adesso non mi ricordo se quasi c'è vediamo un po forse c'è perché mi sembra che qua giù abbiamo la zona dove si compra il mercante il cosiddetto mercante degli animali è qua ci abbiamo ragazzi qua abbiamo la cosa dei cavalli vedete qua ragazzi abbiamo ecco qua ragazzi la stalla dei cavalli eccovi qua vi porto a vedere anche quella eccoci qua ragazzi abbiamo una stalla veramente come dio comanda eccoci qua la signora ecco ragazzi questa è la signorina nella famosa su sex di cui vi parlavo dove io veneva a chiedergli non mi ricordo mi diceva una parola in inglese per sbloccare le siepi ecco questa c'era nella su sex questa struttura come la ricorda anche qua abbiamo le luci ragazzi eccoci qua vedete ha acceso le luci la stalla tutta illuminata ragazzi guardate qua uno spettacolo quando ci mettiamo i nostri cavalli eccoci qua qui abbiamo una sella guardate ragazzi spettacolo guardate le selle cioè veramente tutto un altro lavorale io e per quello è chiaro che con questo non voglio discriminare la giant però ragazzi diciamo che a ognuno il suo lavoro ecco chiudiamola qua diciamo così a ognuno il suo lavoro magari quelli della giant sono bravi per aver creato questo simulatore qua e poi è chiaro che i modder come alien gene black sheep e tutti gli altri a livello loro io parlo sempre questa è la pista per allenare cavalli ragazzi a livello loro è chiaro che se questi sono quelli che perfezionano le mappe che lavorano sui dettagli e comunque tutto il resto ragazzi scusate vi sta incominciando a mancarmi la voce perché insomma come sapete porto avanti tre serie dunque parlo qua parlo negli altri video insomma la voce piano piano comincia a andarmi un po' a portare ragazzi intanto superiamo con la macchinina ancora un po' prendo un palo ragazzi qua penso eccoci qua allora qua siamo al mercante di animali ragazzi un'altra cosa qui abbiamo la cisterna adesso io non mi ricordo se per prendere l'acqua per vendere a questa cisterna qua c'era sulla su sex e si vendeva l'acqua ci pagavano l'acqua qui penso che sia un altro punto vendita qui va ben mercante degli animali e quando lo so forse qua dovremo comprare non lo so ragazzi devo venire col carrello per quello vi dico vediamo un po che dice bra del pack a queste per passeggiare col cavallo ragazzi abbiamo anche le piste guardate le piste per passeggiare col nostro cavallo ragazzi pazzesco pazzesco quando vi dico vedete ragazzi quando vi dico le cose fatte e i dettagli curati nelle mappe queste sono le cose fatte da un modder grandissimo come agli angi tutti i dettagli curati la pista per girare con i cavalli tutto qua eccomi qua ragazzi scusate mi ha avuto l'inconveniente mi si è scaricato il joystick e l'ho dovuto cambiare scusatemi ragazzi sono inconvenienti che avvengono anche nella registrazione niente ragazzi comunque dai avremo modo io adesso ho fatto un giro così panoramico veloce veloce vi ho fatto vedere un po alcune cose avremo modo di vederla di girarla bene la mappa perché adesso andrò a fare un po di video è una nuova serie che appena partita oggi ecco ci tenevo a farvi vedere un po la mappa e niente dai adesso torniamo in farm perché ragazzi siamo arrivati oltre però vabbè oggi mi andava un po di allungarmi ma niente torniamo in farm ecco ragazzi fatemi sapere nel rivolgo soprattutto a quello che mi scrivono i commenti che mi che mi seguono comunque fatemi sapere cosa volete fare come volete interagire con me come la portiamo avanti ragazzi io la mappa la faccio insieme a voi mi piace farla insieme a voi video li faccio perché voglio che anche voi interagite e fatemi sapere se avete idee se avete qualche consiglio da darmi piuttosto che fare una cosa fanno un'altra come sempre ragazzi dai facciamola assieme io mi diverto a farla assieme anche con voi e poi ragazzi fatemi sapere se avete voglia di girare qualche video io ci sono sempre ve lo dico allora torniamo ma in farm io direi che per oggi può andare anche bene così grazie la mappa è uno spettacolo ragazzi la mappa è veramente uno spettacolo allora giriamo qua questa nostra entrattina ragazze nato che chiedo il cancello perfetto eccoci qua la vecchia fattoria di zingarello il canto via chiude il battente ragazzi mi è venuto questo titolo così andremo a chiamarla così ho preparato anche una copertina molto bellina appena sarà pubblicato il video avrete modo di vederlo ok ci parcheggiamo la nostra macchinina poi ragazzi domani adesso io non so domani o dopo inizieremo i lavori cominceremo a trebbiare a organizzarci a riempire il nostro silos piano piano no devo spegnere la macchina piano piano facciamo tutto ragazzi io spero di avervi fatto cosa gradita come sempre ripeto è una nuova serie è la fattoria nella vecchia fattoria con zingarello è il nostro amico canto via che è questo qua ragazzi ve lo presento il mio amatissimo toby eccolo qua il tobia ecco questa serie la facciamo assieme a titolo nostro d'accordo ragazzi ecco qua abbiamo anche l'aereo che passa sopra ragazzi vedete l'aereo il barone rosso bellissima questa cosa e niente dai vi do appuntamento alla prossima e spero di farvi sempre un piacere nel portare il video nel mio canale iscrivetevi iscrivetevi e ancora iscrivetevi un abbraccio grandissimo dal vostro zingarello ciao ragazzi ciao a tutti